Buongiorno, buon lunedì ragazzi, ben ritrovati, come state? Allora, oggi vigilia, quindi ci saranno due appuntamenti, ci vedremo nel pomeriggio per commentare assieme la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e cercheremo di capire le indicazioni su alcuni recuperi fondamentali per questa semifinale d'andata di Coppa Italia perché io non so voi, io la vivo così, ma per me la Coppa Italia è la competizione in questo momento della Juve non perché io non voglia vincere l'Europa League, sarebbe un sogno vincere un trofeo internazionale quindi per me l'Europa League è il massimo che puoi vincere in questo momento però la Coppa Italia mi sembra la competizione più alla portata non ci sono delle squadre secondo me superiori alla Juve all'interno della Coppa Italia ma l'Inter ti può comunque buttare fuori, nonostante il periodo difficile dell'Inter attenzione, nella doppia sfida in campionato io ho visto un Inter decisamente al di sotto delle potenzialità della Juve a volte anche che si arrendeva, non ci provava nemmeno è una Juve che comunque con quelle che sono le sue caratteristiche la partita l'ha fatto e tra l'altro ha portato a casa una doppia vittoria l'Inter sicuramente di testa in questo momento non sta benissimo e noi dobbiamo sfruttare questo momento in cui le partite comunque ce le stiamo portando a casa in un modo o nell'altro e dobbiamo anche tenere sott'occhio quello che sarà l'esito del 19 per capire se anche in Serie A qualcosa di diverso potrà accadere vado subito a rispondere alla domanda delle domande perché ho già visto in giro un po' di chiacchiericci non credo che la Juventus potrà rientrare all'interno della lotta a Scudetto era giusto dirlo proprio subito, bam bim boom io ieri sera ho visto la partita tra Milano e Napoli o almeno ho visto un pochettino dato che ero in treno tornavo da Torino, abbiamo giocato proprio la partita youtuber league tra Juventus e Milan e quindi in treno il segnale andava e veniva a seconda dei momenti delle gallerie e così via sono stato fortunato, ho visto tutti e quattro i gol in diretta e poi ho avuto alcuni momenti tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo in cui proprio non eravamo al 100% però dai, bene o male quello che dovevo vederlo visto e sono sorpreso da questo risultato sì, perché 4-0 è molto rotondo molto difficile era quasi impossibile pronosticarlo non sono sorpreso al 100% che il Napoli possa non aver fatto risultato col Milan perché penso anche alla gara dell'andata le due volte che ho visto queste due squadre affrontarsi in stagione beh, mi è perso vedere un Milan superiore all'andata il Napoli ha fatto il risultato probabilmente senza meritarlo e invece al ritorno il Milan ha veramente tirato fuori una prestazione illogica recuperando le A.O. nel momento più importante quindi io credo che sia anche un attimino presto per fare i pronostici legati alla Champions quando ci sono state le estrazioni vi ho detto per me il Napoli a parte destra è la squadra più forte che c'è più di Inter, Milan e Benfica e quindi potrebbe arrivare in finale ma attenzione perché giocare un'altra competizione in cui il Napoli non ha tutto quel vantaggio accumulato come in Serie A nel quale non ha esperienza il Milan invece sì, ce l'ha a livello di storia non è sempre scontato quindi secondo me è un po' presto per fare i pronostici è ovvio che si può pensare a quale squadra ha dimostrato fino adesso di più ed è il Napoli io credo che sia più giusto fare i pronostici quando ci si avvicina quindi partita giustamente vinta dal Milan ma credo che sia un risultato che la Juventus non la debba toccare anzi la può toccare in un solo modo e cioè che ufficialmente da ieri sera il Napoli non può più conquistare 102 punti sul campo e quindi il record dei punti conquistati in un singolo campionato è e rimane della Juventus di Antonio Conte sono molto contento di questa cosa anche perché quella stagione, proprio quella stagione quel record lì ci costò l'accesso alla finale d'Europa League che si giocava in casa in quell'anno tra l'altro perdiamo proprio dal Benfica quindi corsi e ricorsi storici è una partita nella quale potevamo tranquillamente andare a giocarci una finale di un trofeo internazionale in casa nostra quel record ci è costato quella qualificazione lì e quindi vediamo se non si andrà a intrecciare tutto all'interno di un finale di stagione di un certo tipo ma non può essere roba della Juve quella lì sentivo il video dell'amico, che saluto, Gianni Balsarini credo che abbia fatto una disamina lucida, serena, tranquilla, onesta proprio a 360 gradi con un cuore aperto quando dice oggi la Juve deve preoccuparsi non solo del campo la Juve Serie A deve cercare di conquistare quanti più punti possibili perché poi chissà al discorso di pene afflittive che cosa ci potrà accadere magari al campionato fermo perché è vero che il 19 potrebbero toglierci questi 15 punti come no però poi la conclusione delle indagini al processo relativo agli stipendi che potrebbe verificarsi al termine della stagione allora la pena afflittiva dopo non c'è più spazio di manovra non c'è più margine di manovra è per quello che torno sempre a dire quanto è stato illogico una sanzione di questo tipo in velocità così in un pomeriggio al volo all'interno nel bel mezzo di un campionato di calcio ha completamente distrutto un campionato di calcio ha completamente distrutto un campionato di calcio non c'è da stupirsi se oggi il tifoso della Juventus non è più attratto dal prodotto Serie A dalla Serie A attuale perché il tifoso della Juventus oggi pensa alle altre due competizioni nelle quali la Juventus è ancora immacolata non sono state toccate, sono ancora pulite non sono state sporcate ma vi faccio un esempio Gianni dice una cosa molto importante secondo me cioè che il sentimento popolare in questo momento vuole la Juventus in Serie B che non significa che sia un complotto che sia stato creato ad hoc no, significa che si respira nell'aria la volontà dei tifosi avversari magari anche degli addetti ai lavori a volte addirittura degli avversari stessi di far passare la Juventus per la squadra A dite di no basta farsi un giro su internet nei bar agli stadi ascoltare parlare, interagire banalmente anche sui miei social quante volte mi sono ritrovato a dover cancellare dei commenti maleducati perché non si parla di revisione, censura perché non voglio far passare quel messaggio è che solitamente sono commenti che partano sempre a presupposti maleducati con alla base delle offese perché? perché il calcio in Italia per la stragrande maggioranza è composto da queste persone che di calcio non dovrebbero parlare perché semplicemente non vogliono parlare di calcio né di sport vogliono fare tutto un altro discorso quindi Gianni su tutto questo punto di vista ha ragione ma attenzione che anche gli organi di informazione vanno abbastanza in questa direzione qua vi faccio un esempio banale piccolo che non parla di odio ma parla è un dato di fatto ieri sera al termine della partita tra Napoli e Milan a Pro Twitter c'è un link un articolo della redazione di Gianluca Di Mars che ovviamente non è stato scritto da Gianluca Di Mars sono tutti dei ragazzi che vanno a fare articoli e facevano il conto tutti gli scenari aritmetici per cui il Napoli potrà vincere lo scuola tutti gli scenari l'aritmetica con tutti gli scenari tutti gli scenari andavano semplicemente a prendere in considerazione i punti di distanza tra la prima e la seconda e dire quando sarebbe stata la prima data utile quindi il 3 di maggio la Dacia Arena contro Udinese peccato che tutti gli scenari ne prendevano in considerazione solo uno e cioè la distanza dei punti tra Napoli e Lazio seconda in classifica ora tutti gli scenari sembra che prendi in considerazione tutti gli scenari quante righe di testo sono state scritte sul possibile ricorso che va a ridare i 15 punti della Juventus e quindi la posiziona davanti alla vassa al secondo posto zero zero tutti gli scenari non sono presi in considerazione sembra quasi che che la Juve non possa nemmeno essere citata per questa cosa qui non lo so sono quelle piccole cose certo non stiamo parlando poi ci sono quelle macro ma le lascio da parte perché provengono da da persone che per me non hanno nemmeno il diritto di essere citate perché davvero quello col calcio c'è niente a che fare ci sono tre quattro cinque giornalisti giornalisti che è meglio lasciare da parte perché sono davvero terroristi terroristi e poi fanno le vittime fanno i pianti e cercano di passare dalla parte della ragione in questo modo quando sono i primi a tirare in ballo delle cose che veramente bisognerebbe soltanto vergognarsi a livello umano prima di tutto piuttosto che quello sportivo ma sono discorsi che veramente non voglio fare sono nomi che nemmeno voglio pronunciare perché non voglio cercare di dare notorietà a certe persone che senza questi atteggiamenti sarebbero zero nella vita zero nella vita zero ribadisco zero a maggior ragione in questo momento qui in cui provano pure a reinventarsi con cose che non conoscono nelle quali sono ignoranti nelle quali credono di dover trovare la miniera d'oro così pievuta dal cielo perché sì io ho quasi dieci anni con un canale youtube non avete idea di quanti anni mi sono fatto di registrazioni di editing di caricamenti di studio delle piattaforme social delle varie piattaforme social senza tirar fuori un euro tutto quello che sono riuscito a crearmi per fortuna me lo sono fatto da solo e penso anche abbastanza con impegno vedere non so nemmeno come definirli diciamo persone diciamo persone che invece credono di poter vabbè lasciamo stare questo è un discorso usato è lo sfogo finale che è poco a vedere col calcio ma questi giorni ho letto di tutto e di più c'è troppa maleducazione troppa saccenza e certe persone vorrebbero scendere dal piedistallo e basta e basta e quindi niente questo è un po' il discorso quindi ricapitolando Giglia Juventus Inter Juventus è ancora in corsa per due competizioni la Serie A è soltanto una sorta di campo d'allenamento nel quale la Juve comunque dovrà cercare di migliorare anche le prestazioni come ha ribadito anche Cesni ai microfoni nei post partita e questa cosa mi ha fatto decisamente piacere quindi oggi pomeriggio ci vediamo con la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri Milan-Napoli e tutto quello che può essere legato anche alla Champions l'Inter il momento di difficoltà dell'Inter prossima avversaria della Juventus e questo sentore che si respira nell'aria per quanto riguarda un po' il momento legato alla Juve ma la Juve anzi l'Italia se sa è divisa in due chiama la Juve e chiude la Juve